Buona domenica. Questa domenica dopo Natale ci porta ad un confronto con un testo che abbiamo ascoltato anche nel giorno della Messa di Natale. È un testo un po' complesso che apre il Vangelo di San Giovanni, ma è un testo prezioso. Lo vogliamo ascoltare. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo. E il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i Suoi, e i Suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio? A quelli che credono nel Suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la Sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. L'Evangelista Giovanni ci svela che il suo incontro con Gesù e la sua vita, insieme con Gesù, gli hanno permesso di contemplare la gloria di Gesù, di scoprire un po' qualcosa del mistero di Gesù, di questa persona che apparentemente era un uomo come noi, ma in realtà era Dio. E cerca di descriverci questa sua esperienza usando alcune immagini dense di significato. La prima immagine è la parola. In principio era il Verbo. Sarebbe forse più corretto dire in principio era la parola. Verbum latino vuol dire questo. L'Evangelista ci dice che se vogliamo capire lo straordinario rapporto che c'è tra Gesù, il Figlio, e Dio, il Padre, è lo stesso rapporto che c'è tra noi e la parola profonda che viene dal nostro intimo. Ogni persona, nella nostra cultura antica, contadina, e nella cultura del tempo di Giovanni, aveva una parola. Quando anticamente si facevano i contratti, non si scrivevano grandi cose, ma si diceva, ti do la mia parola. E questo bastava. La parola, quella parola con cui io dico chi sono e mi impegno, è la mia verità, descrive me stesso e mi lega. Se tu hai la mia parola, hai me stesso. Se tu ascolti il mio sì, hai in mano la mia vita. Questa è la prima immagine che Giovanni usa. Incontrando Gesù si incontra Dio. Ascoltando Gesù si ascolta la parola di Dio. Le cose che Gesù ti dice sono una certezza, perché è Dio stesso che te le dice. Egli è la parola. E questa parola è potente, perché Dio con la sua parola ha creato il mondo. E Dio, attraverso la parola di Gesù, lo ricrea e lo salva. Affidarsi alla parola di Gesù è come affidarsi alla potenza, anzi, all'onnipotenza di Dio. La seconda immagine che Giovanni usa è la luce. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. L'immagine della luce è un'immagine estremamente efficace per descrivere l'esperienza che faceva chiunque incontrava Gesù. È l'esperienza fatta da Giovanni. È come se la tua giornata si illuminasse. Ci sono delle persone che sono capaci di fare questo. L'incontro con loro ci dà una nuova speranza. Ci sembra che le tenebre della paura si dissolvano, che si dissolvano anche le tenebre del dubbio. Questa era l'esperienza dell'incontro con Gesù e questa è ancora oggi e può essere ancora oggi per ogni credente, ogni esperienza dell'incontro con Gesù. Incontrare il Signore Gesù, ascoltare la Sua parola è davvero lasciarsi illuminare. Allora, in piena luce, la strada diventa chiara. In piena luce i limiti e i difetti si vedono meglio. È più facile far pulizia se si illumina una stanza. In piena luce le tenebre fuggono e con le tenebre fugge il male. La Bibbia dice che il Signore ogni mattina con l'alba scuote il mondo e le persone cattive vengono ricacciate nelle tenebre. La luce è speranza e pienezza di vita. Questo è Cristo. E questo Vangelo si conclude dicendo che questa esperienza di incontro con Gesù e di esperienza della Sua straordinaria unione con Dio è qualcosa che Lui vuol comunicare a noi. In Lui noi possiamo diventare figli di Dio come Lui. L'incontro con Cristo in chi lo accoglie rende luminosi. L'incontro con Cristo in chi lo accoglie rende portatori di speranza. L'incontro con Cristo in chi lo accoglie rende parola di verità per questo mondo come Lui possiamo essere figli di Dio e il mondo ha bisogno di figli di Dio. Che il Signore dia ad ogni cristiano di essere un portatore della parola una luce del mondo un vero figlio di Dio. Questo è l'augurio per queste feste. Grazie.